Me l'avete chiesto in tantissimi e oggi ve l'ho portato tutorial sugli droppi ti spiegherò esattamente come funziona e come puoi sfruttarlo per il tuo business di dropshipping E benvenuti gradiatori, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo video Tutorial agli droppi, ma prima di tutto un bel mi piace supportate questo canale, questo video tutto quanto alla grande mi piace, condividete e dopo il mi piace ovviamente se non l'hai fatto iscriviti al canale adesso e attiva la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato, mi raccomando Perfetto ragazzi, procediamo con gli droppi e ovviamente dovete assolutamente vedere il video che ho fatto insieme al co-founder di gli droppi ovvero il futuro del dropshipping, lo trovate sempre nel mio canale eccolo qui dove parliamo esattamente di come funziona i droppi come potete sfruttarlo per massimizzare la vostra attività di dropshipping soprattutto ovviamente con Shopify quindi la prima cosa che dovete fare vedetevi il video ma per quanto riguarda il nostro tutorial vi mostrerò esattamente come funziona i droppi in molti me l'avete chiesto e io sono qui per esaudire i vostri desideri quindi continuiamo quindi la spiegazione con ovviamente Shopify l'abbiamo creato eccolo qua la migliore piattaforma fornitori dropshipping e gli droppi adesso vi faccio vedere come si implementa qui dobbiamo ovviamente compilare tutti i dati e collegarlo al nostro Shopify store ok ragazzi stiamo creando il nostro account abbiamo inserito tutti i dati stefano montana info chioccio a stefano montana businessonline.com password stefano ok qui possiamo selezionare il linguaggio desiderato grazie al quale possiamo comunicare con il nostro e-com manager va bene quindi in questo caso noi possiamo selezionare inglese, italiano, francese e spagnolo quindi ovviamente cliccheremo italiano in questo caso accettiamo i termini e condizioni e creiamo il nostro account ok salva va bene fai come vuoi perfetto prima cosa ovviamente se voi non parlate italiano fate come vi ho mostrato in precedenza e qui traduci la pagina e tutto magicamente sarà in italiano va bene quindi molto semplice ragazzi non avete veramente scuse ok continuiamo qui potete ovviamente contattare il supporto ok tramite il bot che poi successivamente vi darà la possibilità di contattare l'icone manager vedete qui perfetto ora quello che noi dobbiamo fare è prima di tutto collegare il nostro negozio va bene eccolo qui inseriremo il nome del nostro negozio abbiamo detto stefano montana real punto my shopify punto com perfetto ah no my shopify my shopify punto com ma già c'è ok collegare eccolo qui e si andrà a collegare direttamente col nostro store eccolo qui perfetto utroppi installa l'app anche se non è elencata non vi preoccupate ragazzi non c'è assolutamente problema perfetto ok abbiamo collegato il nostro store andiamo a controllare app ok disers c'è vediamo utroppi se compare aggiorniamo eccolo qui utroppi perfetto ovviamente voi potrete cliccare sia qui per entrare in disers sia qui per entrare in utroppi qual è la differenza principale di utroppi rispetto a disers che disers ovviamente utilizza i prodotti di aliexpress sopra il quale voi non avete il minimo controllo mentre utroppi ci dà la possibilità di un controllo maggiore sui nostri prodotti sui prodotti in catalogo e soprattutto sulla spedizione perché è la cosa più importante ovviamente con utroppi praticamente siete sicuri al 100% che i prodotti arriveranno e come arriveranno va bene ovviamente utroppi sfrutta i magazzini che hanno in giro per il mondo soprattutto in Cina per consegnare in maniera più efficace i propri prodotti quindi utroppi fondamentali per portare il vostro business a livello successivo abbiamo detto qui catalogo prodotti qua potete richiedere addirittura un nuovo prodotto ovviamente nel caso in cui non riusciate a trovare il vostro prodotto il prodotto desiderato all'interno del products catalog ok perfetto qui possiamo vedere tutte le tipologie di prodotti se noi cerchiamo per esempio sunglasses come l'esempio di prima su Aliexpress vediamo che ci sono diversi modelli ecco qui molto molto economici vedete con la spedizione DHL fondamentale ragazzi che è molto ovviamente è molto superiore ai packet perché DHL è il numero uno al mondo spedizioniere numero uno al mondo azienda leader delle spedizioni quindi capite bene che è un grande vantaggio avete la sicurezza al 100% che il prodotto arrivi al vostro cliente va bene quindi se noi per esempio prendiamo ok facciamo questo qui questo modello qua un euro e 48 un dollaro e 48 scusate selezioniamo tutti i colori molto semplice e lo pubblichiamo sul nostro store ora qui possiamo vedere quanto ci impiegherà la spedizione da 9 ai 15 giorni va bene per country quindi per paese se noi per esempio inseriamo Italia Italia ovviamente perché in inglese è l'applicazione vedremo che i tempi di consegna si aggirano dai 9 ai 15 giorni lavorativi vedete qui giorni lavorativi business days va bene traduciamo per farvi vedere si prega di notare che i tempi di spedizione si basano sui giorni lavorativi e il costo di spedizione è 5,77 quindi questo occhiale da sole in particolare lo paghiamo 1,48 più 5,77 quindi più o meno 7,77 7 dollari poco più di 7 dollari va bene che sono circa 7 euro e questi possono vendere tranquillamente anche a 25 ma proprio minimo se non pure 50 io li vendevo a 50 perché è da sole quindi non c'è assolutamente problema ok qua lo pubblichiamo sul nostro store perfetto qua l'impostazione della spedizione è già attiva ok perfetto andiamo a vedere il nostro prodotto su Shopify e vedete qui abbiamo ovviamente tutti i prodotti eccolo qua il nostro nuovo occhiale da sole direttamente da YouDropi quindi ogni volta che voi riceverete un ordine sul vostro Shopify store ok per il prezzo per esempio di quanto abbiamo detto qui mettiamo per esempio 25 ok 25 25 25 25 pagherete 7 euro quindi andrete a guadagnare 18 euro per ogni occhiale da sole salviamo ok salvato tutto quanto vedete che adesso il prezzo sarà di 25 euro va bene eccolo qui 25 euro quindi noi ogni volta che riceveremo un ordine sul nostro Shopify store avremo l'ordine relativo all'interno del nostro account YouDropi quindi andremo ad ordinare qui vedete con un semplice click ogni volta che riceveremo gli ordini potremmo ordinare direttamente e YouDropi e il loro magazzino il loro fornitore spedirà direttamente il prodotto a casa del vostro cliente quindi voi ovviamente capite bene che non avete problemi più di spedizione di preoccuparvi se la roba arrivi o meno al contrario di Aliexpress ok vi ricordo che D-Sers utilizza Aliexpress come fornitore diciamo come lista di fornitori lista di prodotti voi potete comunque selezionare qualsiasi tipo di prodotto anche su YouDropi ok magari vi fate una ricerca su Aliexpress e poi lo trovate su YouDropi va bene molto semplice ragazzi semplicissimo e assolutamente affidabile ok anche perché YouDropi sta cercando di ampliarsi sempre di più e ovviamente aiutare sempre di più i dropshippers che stanno iniziando come potete vedere qui ci dà anche l'opzione di ovviamente aggiungere i fondi su YouDropi quindi ogni volta dovrete ricaricare il vostro account YouDropi e potrete ovviamente fulfill the orders ovvero evadere gli ordini ok in italiano molto semplice qui avete anche le fatture per ogni ordine ok perfetto ora parliamo del virtual warehouse ovvero l'opzione che mette a disposizione YouDropi per ridurre drasticamente vedete qui dice ridurre drasticamente i costi unitari di prodotto e tagliare i costi di spedizione quindi gli shipping times tutto quello che devi fare è semplicemente contattare il tuo icon manager e digli che tu vuoi utilizzare questo prodotto ovviamente gli icon manager saranno a vostra disposizione vi aiuteranno per massimizzare il vostro business e vi ricordo che questo ragazzi è l'unica cosa che conta ovvero incrementare i vostri margini di profitto e soprattutto i vostri guadagni attraverso Shopify e il vostro business di dropshipping quindi loro vi aiuteranno a fare tutto ciò e saranno super disponibili e potete vedere che sono presenti queste virtual warehouse in Italy Spain China e Romania va bene per adesso e ovviamente aumenteranno successivamente i magazzini virtuali va bene molto semplice e molto intuitivo perché potete vedere qui per esempio se clicchiamo su Italia vedete qua avrete la vostra lista dei prodotti che avete nel vostro virtual warehouse va bene torniamo invece a parlare di Udrop ok qua store management cash on delivery eccolo qui perfetto cash on delivery è un'altra incredibile opportunità che ci mette a disposizione Udrop ovvero il pagamento alla consegna che vi ricordo in Italia vi aumenta le vendite del 20-30% che non è male per niente principalmente perché le persone molte persone non si fidano a comprare online ancora quindi capite bene che offrendogli questo servizio di cash on delivery voi andrete ad aumentare drasticamente le vostre vendite e ovviamente Udrop lo sa e vi propone questo metodo di pagamento da implementare nel vostro negozio Shopify decisamente efficiente l'unica cosa che dovete fare è contattare ovviamente l'icon manager in questo caso Gian Maria tramite email e capire esattamente come funziona quindi avete anche questa opportunità potete ovviamente ordinare bulk order nel senso gli ordini tutti insieme ok e ridurre ovviamente i costi unitari per costruire un brand quindi potrete anche inserire il vostro brand sul prodotto e praticamente lanciare un brand in private label che sarà il vostro obiettivo finale perché con il brand del private label potete creare una connessione più duratura e longeva con i vostri clienti che continueranno a tornare da voi e soprattutto comprare da voi capite bene che il costo per acquisto di un cliente viene massimizzato soprattutto per quanto riguarda l'everage order value ovvero il valore medio di ogni cliente che spenderà da voi se ovviamente vi conoscerà e comprerà di nuovo da voi per magari la nipote la figlia il fratello un amico o per fare un regalo quindi capite bene che già vi conosce e avete già un rapporto diretto con il cliente che è fondamentale ragazzi per qualsiasi tipo di business e ovviamente è fondamentale per l'e-commerce capite bene quanto è importante creare un brand di lungo termine ovviamente se avete le risorse a disposizione ma si può fare anche con un basso budget come vedete potete iniziare con dropshipping semplicemente da l'express con dsers poi aumentare il vostro livello passare a udroppi e successivamente magari creare un brand con il vostro logo sopra e quello è il livello finale dove veramente creerete un ecosistema che vi permetterà finalmente di ottenere la libertà finanziaria che vi meritate e che ti meriti tu direttamente e sto parlando proprio con te va bene quindi abbiamo detto praticamente tutto di udroppi anzi parliamo dunque di nuovi piani di udroppi in quanto si creare l'account è gratis potete importare iniziare a vendere tramite udroppi tuttavia ci sono dei piani degli upgrade che potete fare ok quindi molto semplice qui cliccate su monthly pricing e vedete più o meno le caratteristiche dei nuovi piani di udroppi va bene poi ve li studiate in base alle vostre esigenze a quello che vi serve per esempio qui uno store 5 stores 10 stores eccetera eccetera potete ovviamente scegliere il piano che volete e ovviamente iniziare con il piano gratuito come ho fatto io in questo caso comunque qualsiasi domanda ragazzi contattate direttamente il vostro icon manager oppure contattatevi di udroppi tramite questo piano e vi spiego esattamente le nuove modalità grazie all'email che mi ha mandato la nostra cara Robin e anche in questo caso mi ha mandato il link del piano mensile e piano annuale che gli diamo un'occhiata adesso in questo momento ok il piano mensile è sempre uguale mentre il piano annuale ovviamente vi salverà un bel po' di soldi vedete due mesi gratis ok perfetto ora andiamo a spiegare le caratteristiche nuove di udroppi per esempio che cos'è un icon manager è un consulente senior con esperienza di e-commerce e marketing che ha il compito di assistere il merchant quindi il marketer o il venditore voi coordina le operazioni lato udroppi gestisce i rapporti con le fabbriche in base al sourcing e successivamente mentre viene scalata la vendita del prodotto cura le trattative per il bulk ovvero come vi ho detto in precedenza l'ordine all'ingrosso va bene le operazioni white label la creazione di prototipi suggerisce prodotti fa shop inspections ovvero vi controlla un po' tutto quanto vi aiuta proprio a crescere mano per mano come i bambini è quindi da considerarsi a tutti gli effetti un membro del vostro team proattivo e avente lo scopo di agevolare la fioritura del tuo business mi raccomando ragazzi capite bene che questo è un aiuto fondamentale che utroppi ci mette a disposizione e ovviamente per questo che ha creato questi nuovi piani perché offre davvero tantissimi vantaggi che vanno ovviamente pagati quindi è facile intuire l'opportunità che ci mette a disposizione utroppi con i loro icon manager ovviamente sulla base del vostro piano mensile o annuale che avete selezionato ok poi qui abbiamo addirittura la possibilità di utilizzare l'app da mobile l'android e ios ok fulfillment agreement for payment gateways si tratta di un documento che attesta che utroppi al fornitore del merchant in questione in questo modo sia i gateways di pagamento che le banche non ti considerano più un'attività ad alto rischio evitando così di porre in essere misure preventive quali congelamento dei fondi di niego di apertura di un account o altre limitazioni tipicamente riservate a chi fa dropshipping questo ragazzi veramente è incredibile in quanto per chi ancora non lo sapesse sia facebook sia stripe sia shopify vogliono lavorare il meno possibile con business tra virgolette fraudolenti o che possano comunque attuare qualche truffa ai danni dei users sia di shopify sia di facebook e ovviamente prediligono business veri ok business che hanno una struttura e che siano improntati principalmente al guadagnare ma in maniera onesta e ovviamente gli drop ci dà una mano in quanto soprattutto per chi parte da zero non è facile ovviamente creare questa reputazione agli occhi di stripe di facebook di shopify quindi ci fa da garante davanti ai loro occhi capite bene che questo è un vantaggio incredibile in quanto potete semplicemente affidarvi agli drop e loro garantiranno per voi la consegna dei prodotti che è la cosa più importante in quanto la consegna del prodotto è la base del drop shipping di successo va bene ripeto ragazzi questo punto è fondamentale spero l'abbiate capito bene altrimenti mi fate domande giù nei commenti o contattate gli droppi direttamente code cash on delivery offriamo pagamento in contrassegno cash on delivery per 7 paesi italia spagna portogallo romania ungheria bulgaria grecia presto apriremo altri 4 paesi e quindi vedete bene come si stanno espandendo in tutto il mondo gli droppi grandissimo progetto grandissimi ragazzi grandissimo cuore quindi l'unica cosa che dovete fare è semplicemente contattarli se avete qualche dubbio tramite app come potete vedere qui anche telefonicamente ragazzi non avete veramente più scuse abbiamo qui come abbiamo detto anche il cash on delivery fulfillment agreement for payment gateways ovvero per i gateway di pagamento come per esempio paypal stripe shopify payments che ovviamente vorranno lavorare con voi solamente se avete una struttura efficiente alle spalle ed europe vi da questa possibilità anche con il virtual warehouse accanto al tradizionale drop shipping offriamo la possibilità per i nostri clienti come vi ho mostrato in precedenza di ordinare piccoli o grandi quantitativi di prodotti che custodiamo al centro logistico di shanghai e procediamo a spedire direttamente da lì quindi loro immagazzinano tutti i vostri prodotti e sono pronti per spedirli esattamente come succede con il drop shipping agent che vi ho spiegato già in precedenza e nell'altro video 48 ore in drop shipping che trovate nel mio canale quindi andatevelo a vedere se ancora avete dubbi sul drop shipping agent e la spedizione in 48 ore con il drop shipping ragazzi basta scuse mettetevi in azione studiate e applicate quello che vi dico è il metodo migliore quando si comincia a scalare un prodotto per aggirare periodi di inattività forzata come il chinese new year in questo modo si ottengono costi inferiori per unità e si decrementa si va a tagliare i tempi di spedizione di approssimativamente 3 giorni quindi capite bene che è un enorme vantaggio branding con gli u-drop è possibile scalare il proprio store fino alla creazione del proprio brand si lavora con l'icon manager direttamente 101 per la creazione e customizzazione del prodotto e packaging quindi ragazzi veramente incredibile ball quarters come abbiamo detto in precedenza la nostra rete di fornitori può essere anche utilizzata per ordinare in bulk ovvero provvederemo a fornire la migliore quotazione per il prodotto richiesto in grandi quantità e gestire l'importazione quindi voi quando ordinate in bulk dalla cina quindi grandi quantità ovviamente passerà per la dogana e per evitare tutti questi problemi sarà gestito direttamente agli u-drop quindi ringraziamo Robin per questa email e soprattutto ringraziamo u-drop per il lavoro che sta facendo e i ragazzi di u-drop quindi faccio i complimenti perché è veramente una struttura ottima che mi piace tantissimo trovate il link di u-drop giù in descrizione ve lo metto giù in descrizione con scritto il miglior fornitore dropshipping u-drop quindi non vi potete sbagliare e ormai l'avrete capito sono qui per aiutarvi voglio creare un ecosistema attorno l'e-commerce perché è un business incredibile che chiunque può iniziare anche a basso budget e crescere pian piano per creare il brand dei propri sogni e ottenere la libertà finanziaria che è tanto ambita da tutti e che soprattutto vi darà e vi regalerà l'opportunità di lavorare direttamente da casa salvando un sacco di tempo un sacco di costi e soprattutto l'opportunità di stare vicino ai vostri cari amici parenti partner figli zie chiunque voi vogliate bene potete semplicemente tenerlo accanto a voi mentre lavorate con il computer semplicemente da casa in pantofole in mutande sul sofà come volete quindi ragazzi non so cosa state aspettando qualsiasi domanda giù in descrizione risponderò a qualsiasi vostra domanda soprattutto se vi siete iscritti al canale avete messo mi piace mi raccomando e se mi seguite su instagram potete farmi le domande direttamente e vi risponderò tramite stories quindi andatemi a seguire stefano montana real su instagram ovviamente vi metto il prossimo video che dovete assolutamente vedere non vi dovete perdere neanche un secondo il prossimo video qui alla mia sinistra scelto appositamente per te quindi non devi perdertelo mai nella vita cliccaci subito qui alla mia sinistra e ci vediamo al prossimo video ovvero questo qui ciao